Ha frequentato l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e a metà anni 1960 è stata fra gli interpreti della miniserie televisiva con il tenente Sheridan La Donna di Fiori, diretta da Anton Giulio Maiano. A partire dagli anni 70 ha curato il doppiaggio di numerose serie televisive, sopopera e cartoni animati.